Cristian Ramazzotti, locale numero 2, dopo Acquapazza, Tagliamare, un anno e mezzo di gestione ma già il locale se ne parla, è vivacissimo perché signori alle 8 già erano tutti a tavola, questa è una cosa che raramente capita nei locali normali. Cristian, una formula che è un successo già in partenza? Sì, Tagliamare è una bella formula, un locale aperto tutti i giorni, tutto l'anno, dalla mattina alle 7 in quarto con le colazioni, facciamo le birosh fatte in casa e questo è l'inizio della giornata e poi agliettiamo tutti con i piatti tradizionali della tradizione senigallese di pesce e soprattutto sicuramente la chicca è quella della pasta fatta a mano, solo pasta fatta a mano e soprattutto fatta a vista in modo che il cliente la può notare. Come vedete dalle immagini qui non si fa nessun trucco, nessun inganno, quindi non resta che prenotare a Tagliamare, Tagliamare perché è un dialetto senigallese? Sì, Tagliamare significa, poi lo potete vedere qui di fianco, questo qui è proprio un Tagliamare che è la parte di prua delle navi da pesca ad una volta, quelle che fendevano il mare per far passare la barca da pesca. Buon appetito con Tagliamare Senigallia, Lungomare Marcori numero 13.